Uno dei locali più belli, non di Preano, ma della Costiera Amalfitana Arratato con gusto, ma a parte l'arretamento con gusto, anche il cibo è gustoso Abbiamo qui Catello Celentano, che cosa si propone per quest'estate? Aspettando che esca il sole, anche se qua c'è sempre il sole Non c'è sempre il sole, anche se non si vede ma c'è Per quest'estate, come sempre, proponiamo lo spaghetto a totale Il marchio di fabbrica sia di Praiano sia del nostro locale Qual è il segreto dell'ottimo spaghetto a totale? I totali, i totali devono essere locali, pescati a noi li portano direttamente da Praia Ed è un piatto tradizionale del cosiddetto? Sì, noi l'abbiamo rivalutato con lo spaghetto E poi ci sono i totali e patate Esatto, è proprio il piatto tipico praianese E noi l'abbiamo adattato, siccome io provengo da Massa Lubrense Dove da noi lo spaghetto con il totale Quindi abbiamo unito le due Massa Lubrense e Praiano sono i due posti di mare Veramente più belli del mondo E qua veramente si mangia bene Complimenti